E allora, che è successo? Come andiamo? Facciamo una veloce diretta Bella Andrea, bella Ziii! Come andiamo? Ciao Andrea Breschi! Aspettiamo un po' che entri la gente Lele Pu! Lele Pu! Lele Pu! Sempre presente Lele A Cristiano! Che black! Bella, bella, raga, come state? Famos! Bella! Che mi dite? Come avete passato la giornata? Ciao Andrea Cascio! A bello! The best things in your life aren't things Bella Zii! Tutto a posto? Che avete fatto oggi? Avete approcciato un po'? C'è il ragazzo... uno dei ragazzi che sto seguendo in coaching Che tra l'altro è il mio conterraneo che sta prendendo il volo Cristiano dimmi un po' tu che tu non mi deludi mai Peraltro avete sentito che cazzo di caldo che fa? Sembra estate, almeno a Bari è così Fammi giustare le palle Se volete cominciare con le domande io sono qui Ciao raga Ciao raga! Tutto rego? Potete usare come sempre il... Cioè almeno io ci provo a dirvelo però poi non va Il punto interrogativo qui sotto Comunque la puntata sulla vulnerabilità è piaciuta molto L'ho notato Fantastico il post che hai fatto oggi Ah! Quello make women horny again Sì sì, quello non è mio Eh, sarebbe bello se mi fosse inventato un cappello così Quello lì comunque è una cosa americana La 21 Convention E... prima la seguivo È una cosa molto dedicata agli uomini Però adesso hanno preso un filone Una tangente un po' troppo incel Stanno diventando piano piano incel Cioè lo percepisco proprio Sento questo odio nei confronti delle donne Che sta salendo Ma non ha senso perché non sono mai stati così loro Comunque 21 Convention si chiama Se voi andate su YouTube ci sono tanti video interessanti Magari evitate quelli troppo incellosi Cristiano, rispondevo sul gruppo alla domanda che facesti Ovvero se riusciamo ad approcciare senza contesto Mi sto sforzando di farlo soprattutto dopo il video di ieri Sì, ma ragazzi È proprio il fatto di fare le cose senza contesto Che è la naturale espressione La naturale estrinsecazione di quello che diciamo Cioè quando tu fai le cose senza contesto Cioè ci provi senza contesto Vuol dire che hai capito di che stiamo parlando Perché se noi abbiamo capito Che tu non ti devi giustificare di niente Le donne vogliono il cazzo Ed è la cosa più naturale del mondo Non serve il contesto Cioè un uomo che ha interiorizzato questa cosa Non usa contesti Cioè quello a sua volta invece al contrario Che non ha capito questi concetti Cerca il contesto Vi faccio un esempio Approcciare L'uomo che non ha capito che alle donne piace il cazzo E che il sesso è naturale È normale Cerca il contesto Una scusa Va di indiretto come dicono gli americani Chiede il tempo Un'opinione femminile diciamo Che può benissimo funzionare Cioè se vi capita di cominciare a parlare con una ragazza Non necessariamente dicendole subito Che la volevate conoscere Ma magari commentate qualcos'altro Però il prima possibile dovete rendere palese il vostro desiderio sessuale Se ovviamente ce l'avete nei confronti della ragazza E lo si fa senza contesto Stessa cosa per le altre avance Cioè chi non ha capito E chi cerca una giustificazione Perché non si sente all'altezza delle cose E chi non ha preso la pillola rossa Cioè chi crede che debba dimostrare qualcosa E allora cerca il contesto Perché il contesto serve a dimostrare nella loro testa almeno Cosa Cosa loro credono che bisogna dimostrare Capito? Quindi sia per l'approccio Cercare un contesto non ha senso È molto più facile andare senza contesto Spogliarsi Far capire subito quali sono le proprie intenzioni Così si vive liberi ragazzi E si viene stimati molto di più Rispetto a coloro che si chiamano viscidi tecnicamente Che non fanno capire le loro intenzioni Ma sono bravi a trovare il contesto Capito? Stessa cosa quando Che ne so Un altro tipo di avance Toccare Toccare Se tu non hai capito quello di cui parliamo Cerchi il contesto Perché cerchi una giustificazione sul toccare Quindi che cosa fai? Che ne so Dammi la mano che ti leggo la mano Oppure un'altra qualsiasi scusa per fare contatto fisico Oppure quei contatti fisici Viscidissimi, bruttissimi Che tu metti la mano ma non sei molto convinto Perché appunto cerchi il contesto Non sai come giustificare il tuo contatto fisico E quindi lo fai Ma subito dopo togli la mano E il contatto fisico dura mezzo secondo Quella è una cosa estremamente inquietante Ma vi sentite inquieti anche voi quando lo fate E perciò togliete la mano Paradossalmente Rischiate di allontanare di più la tipa Facendo un contatto fisico non deciso Cioè E poi togli Rispetto a una bella mano piazzata ovunque sul corpo Ha molta più probabilità di funzionare la mano piazzata ovunque sul corpo Che è una mano non piazzata bene Una mano che cerca il contesto Cerca la scusa Cerca E adesso dai ti faccio vedere Quanto sono bravo a fare i massaggi Visto che ho studiato in Tibet Questa cosa la potete fare Nel senso Se voi Vi va veramente di fare un massaggio Fatelo assolutamente Ma non usatelo come una scusa Per cercare il contesto Con cui giustificare le vostre avance Perché le avance non vanno mai giustificate Che che ne dicano le femminazzi Giustificare le proprie avance È proprio l'autostrada Per diventare creepy ed inquietanti Stessa cosa quando chiedete un contatto Chiedete il numero Instagram Facebook Se cercate la scusa Cioè il contesto Cercate di contestualizzare la vostra richiesta Dai dammi Instagram Che ti mando delle cose di cui abbiamo parlato Magari avete parlato Che ne so Di appartamenti da comprare in città E allora dammi il tuo numero Che ti mando i vari annunci se li trovo Puttanate Cioè Se effettivamente avete avuto una conversazione Di quel genere E non lo state usando come contesto Non so se mi capite Cioè come scusa Va bene Ma se State cercando la scusa Per giustificarvi Perché non vi sentite a vostro agio Con la vostra sessualità E quindi non vi sentite a vostro agio A provarci con le tipe Il contesto non funziona Andate sempre senza contesto Non serve un cazzo il contesto Cominciate a toccare senza contesto Senza giustificazione Così la donna capisce che voi Avete fiducia in voi stessi E nella vostra sessualità E siccome capisce che voi avete fiducia E' molto più probabile che si apra In tutti i sensi Perché Dice Uno che va così senza contesto Evidentemente le altre gliela danno Cioè evidentemente è uno che piace Evidentemente è uno che è abituato Al fatto che gliela diano Ecco perché va senza giustificazioni Senza contesto E quindi si bagna Si rilassa Cioè dice Io mi posso rilassare Perché lui sa dove mettere le mani Sia letteralmente sia metaforicamente Stessa cosa Qualsiasi altra avance Usciamo Usciamo Quello stupido Si inventa il contesto Dai usciamo Che devo fare un regalo Alla mia amica E magari mi serve il parere femminile E quindi Usciamo io e te Così tu mi dai un parere L'autostrada per la friendzone Il contesto E' l'autostrada per la friendzone L'autostrada per il sesso Si prende dall'altra parte E' non cercare il contesto Non cercare nessuna giustificazione E fare le cose senza giustificazione Né quando le fai Né dopo E né prima Né prima Né durante Né dopo E' così che si bagna la vagina Oggi comunque durerà un po' di meno Ragazzi La puntata Perché poi devo andare alle 8 e mezza Allora Ma è entrato Dryas Ciao ragazzi Ciao chiunque Tu sia Se sei nuovo Ti voglio molto bene Mario Mi sorge un dubbio Se la cosa migliore E' far capire subito Le proprie intenzioni Perché dire subito Scopiamo Non funzionerebbe O almeno così dicono Allora Se tu Allora Il discorso che ho appena fatto Ovviamente Va condito con un attimo Ma proprio un filino di buonsenso Non fatelo diventare enorme Questo filo di buonsenso Un filo Nel senso Non serve giustificarsi Cioè non serve trovare Vari contesti Che non esistono Del tipo Mi accompagni a fare il regalo Oppure ti mando Questo materiale informativo Capito Significa che tu Hai paura ad esporti Hai paura a far capire Che sei interessato Perché evidentemente Hai ricevuto Mille batoste prima E non dai per scontato Che il sesso sia naturale Non dai per scontato Che tu possa chiedere sesso Tranquillamente Capito E questa cosa si reitera Poi Giustamente la domanda è Perché allora Non ci spogliamo direttamente nudi Ragazzi Perché comunque Viviamo in una società Con le sue regole E devi dare Devi mettere Nell'equazione Il fatto che Va benissimo Non creare il contesto Va benissimo Non giustificarsi Però devi Devi avere Nella tua testa Il fatto che Le donne Abbiano paura Di passare per zoccole Quindi Non gli dici Direttamente Scopiamo Perché Un minimo Di Un minimo Nell'equazione Ci devi mettere Il fatto che Vivi in una società Capito Quindi Perché si dice Ci andiamo a prendere Un caffè insieme Perché si dice Ci andiamo a Prendere una birra insieme Perché viviamo in una società Non puoi dire Dai Vieni che scopiamo A una che hai appena conosciuto Perché se no Si sentirebbe troia Ma dal Dire Una cosa di Piccolo buonsenso Cioè del tipo So che vivo in società Quindi non posso dire Scopiamo Dico Prendiamoci una birra Ma il senso è quello A creare un contesto Una giustificazione Completamente fittizia Eccetera Sia per quanto riguarda L'approccio No non ti sto approcciando Per conoscerti Ti sto approcciando Perché volevo sapere Un'opinione femminile Su che vestito Devo comprare A mia cugina Cioè c'è gente Che fa così Perché ha letto Sulla seduzione americana Che non si va di diretto Si va di indiretto Poi continuano ad andare in diretto Per tutta la vita E non scopano mai Capito Stessa cosa Chiedere Di prendere una birra Significa far capire Che sai che viviamo In una società Diciamo Da lì A dire Dai Usciamo insieme Perché così Mi accompagni A fare shopping Così Cioè giustificandosi Inventando una cosa Completamente diversa Da quella che In realtà è E tutt'altro Cioè non so se mi capisci Un minimo di Ho capito Che siamo in una società Ci deve essere Ci sta Però da qui A cercare La giustificazione Per ogni cosa Una giustificazione Completamente fittizia Inventata Che devia Completamente Dai vostri Reali Desideri È un'altra È un altro Paio di maniche Completamente diversa Come cosa Comunque la domanda Era assolutamente Giusta Andrea Secondo me Il fatto di non riuscire A vincere l'imbarazzo Di tenere la mano Di tenere la mano Ti consigli su come allargarla Allora ragazzi Io prima Vi racconto sta cosa Che è un aneddoto Molto interessante Prima di scoprire La potenza Dello sguardo Mi ero fissato Con la potenza Del tocco Che comunque Ci sta Cioè È comunque Ancora più potente Cioè se voi Potete E vi va Di cominciare Direttamente Da una bella mano Sulla coscia O sul culo E ci stanno Le Ci sta la situazione Come ci sta Come lo capite Vi guardate molto Vi state vicino La tipa Si capisce Si tocca i capelli Vi fa domande Si respira Il sesso Nell'aria Ma andate direttamente Di mano In culo Ma quante volte L'ho fatto Tantissime Senza ricevere Nessuno schiaffo E con Risultati Fantastici Ma All'inizio Dovete sapere Quando stavo Sperimentando Queste cose Non avevo capito La sciallezza La bellezza La potenza Del guardare Dritto negli occhi Sorridendo Non dicendo niente Avvicinandomi Allora andavo Direttamente di mano Con il rischio Appunto Almeno nella mia testa Di prendere uno schiaffo Perché dal nulla Ti metto la mano Sulla coscia Vicino alla fica Nella mia testa Mi dicevo Ma do Questa mi dà uno schiaffo Sicuro Sicuro Però devo sperimentare Quindi lo facevo L'ho fatto ad amiche L'ho fatto a ragazze Che non conoscevo Ricà E non succedeva mai niente Facevano tenere la mano E io mi arrappavo Come un porco Ovviamente Però la mano Rimaneva là A volte Visto che magari Che ne so C'era qualcuno Che guardava O non so Non si erano depilate Avevano le mestruazioni Me la toglievano Così Mi prendevo e mi toglievo Ma mai schiaffi Mai niente di strano Mai Cosa fai con questa mano In anni e anni e anni Di pratica Di questa cosa Quindi Come fai a vincere L'imbarazzo Di tenere la mano E questa è La classica domanda Di Marco Come faccio Ad avere voglia Di farlo Come quando Mi chiedono Marco Come faccio A vincere L'imbarazzo Di approcciare In realtà La domanda Che mi stanno facendo È Marco Come faccio A farmi venire La voglia Non ti viene La voglia Devi scendere Appanti con te Stesso che Non avrai mai Voglia di andare Ad approcciare Una sconosciuta Perché hai paura Ovviamente E non avrai mai Voglia di mettere Una mano Senza contesto Su una coscia Di una ragazza Appena conosciuta Non avrai mai La voglia Di farlo Come si fa Lo fai Ti prendi la mano Io le prime volte Mi sono Letteralmente Preso il polso E mi sono Messo Cioè Veramente comica Come cosa da guardare Mi sono preso la mano E me la sono Messa Sulla coscia Della ragazza E stavo proprio Nel panico Oh mio dio Cosa succederà Cosa succederà Mi davo uno schiaffo Mi davo uno schiaffo Mi davo una testa Niente ragazzi Non succede Un cazzo di niente Fate solo capire Che siete Degli uomini Che sono Abituati a scopare E quindi Sono abituati A non giustificarsi Per le cose Che fanno Non giustificarsi Per il fatto Di provare Non giustificarsi Per il fatto Di Amare le donne Non giustificarsi Per il fatto Che ti voglio Scopare E quindi Te lo faccio capire Io sono abituato A non giustificarmi Perché le donne Me la danno Tu dici Facile Vabbè A te te la danno Volete sapere Però all'inizio Quando non ve la danno Come Fra virgolette Fingere questa cosa Proprio Non cercando Il contesto Non giustificandovi Non cercando Di avere voglia Di farlo Perché la voglia Non ce l'avrete mai Quindi l'unico modo Per andare ad approcciare Non è Trovare il metodo Per vincere L'imbarazzo E quindi Averne voglia L'unico modo È Come dicevamo In una puntata precedente Le gambe Prima Le gambe Legs first Lo chiamo io Il principio Delle gambe Prima Fate partire le gambe Senza sapere Che cazzo Andrete a dire È l'unico modo Perché Se io devo aspettare Che io abbia voglia Non avrò mai voglia Quindi è l'unico Un po' di voglia Mi verrà Sapete Sapete quando Quando comincerò A farlo Piuttosto regolarmente E avrai voglia Cioè Quella paura Iniziale Sarà diventata Una sorta di eccitazione Come quelli Che ne so Che si arrampicano In frisolo Senza Senza corda O si buttano Dal paracadute Non è tanto La cosa Del paracadute In sé È Quando È quella Quella paura Che si trasforma In eccitazione Perché poi sai Che L'hai fatto È questo il fatto Cioè tu Ti gasi Del fatto Che Sai vincere La paura Il fatto Non è Sconfiggere La paura È Come faccio A sconfiggere L'imbarazzo Come faccio A non sentire L'imbarazzo La paura E quindi Poi mi va E lo faccio Tranquillamente No È Sentire L'imbarazzo Sentire La paura Farlo Lo stesso E poi Avere Un'erezione E le prossime Volte Che lo farai Sentirei La paura Ma si sarà Trasformata In una sorta Di eccitazione Prepericolo Su cui Ti drogherai È una cosa Allucinante Ti viene Una sorta Di Di Assuefazione A questo tipo Di sensazioni Che è Come la droga Come la droga Però È una droga Bella Naturale Senza Contraindicazioni Sanissima E quindi Diciamo La tua Visione della realtà Cambia Anche la tua Personalità Cambia Perché tu diventi Uno che fa Quelle cose E ne ricavi Orgoglio Ne ricavi Ne ricavi Diciamo Senso di identità Cioè Io Sono uno Che fa queste cose E questa cosa Mi fa gasare Non chiedo Di non sentire la paura Uno perché È impossibile Due perché Senza paura Non ci si diverte Voi provate Voi provate A parlare A uno che si butta Col paracadute Costantemente E gli dite Eh sarebbe bello Non aver paura Di buttarsi col paracadute Quello vi guarderà Così Vi dirà Che cazzo dice C'è proprio La paura Che è la parte bella È proprio il fatto Che tu hai paura E non lo vuoi fare E poi lo fai Buttando le gambe avanti Legs first Buttando prima le gambe Ad essere la cosa bella Capite? È proprio quello Il fatto Quindi Che senso ha Vincere l'imbarazzo? L'imbarazzo La paura Sono proprio La parte bella Non so se Se mi state capendo La stessa cosa Quando vi accorgerete Che una mano Sulla coscia Quella che vi sta seduta Accanto Anche se la conoscete Da due minuti Si può fare Non succede niente Vi verrà Per la mano Cioè Sentirete Quell'adrenalina Come se vi stesse Per buttare Col paracadute Prima di mettere Una mano Su una coscia E vi ci drogherete Di sto fatto Perché È bella Quella paura E poi Pregherete Che non passi Quella paura Perché quella paura Poi vi riempie Di dopamina Dopo Avervi riempito Di adrenalina Quindi Stessa cosa Per l'approccio Che bello Sentire la paura E l'imbarazzo Prima dell'approccio Sono le cose Che ti gasano A lungo te A lungo andare Ovviamente La prima volta È la volta In cui dovete Sforzarvi di più Perché Non avete Questi riferimenti Nella vostra testa In quanto Non avete ancora provato Però poi Vi accorgete Delle sensazioni Che si provano E addirittura Andrete a ricercare Quel tipo di paura Quel tipo di Imbarazzo Quindi Chiedere Come faccio A togliermi A togliermi la paura E l'imbarazzo E da stupidi Non te la prendere Andrea Nel senso Che Nel senso Che è proprio Quello Il bello È come se Tu togliessi Dalle zeppole La crema Come faccio Come faccio A togliere la crema Ti rimane La zeppola In sé Ma Non dà di niente La crema È la paura Capito Stavo parlando Del fatto Di quando Ho trovato Stavo sperimentando Il fatto Di mettere le mani Sulle cosce Varie Io non ci ho dormito La notte Ragazzi Quando ho visto Che non succedeva Niente Io stavo così La notte Ma non è possibile Cioè È veramente Tutta una menzogna Viviamo veramente In matrix Cioè Io rimanevo così A guardare il soffitto Per ore e ore Perché non mi capacitavo Che non succedesse niente Siamo cresciuti Con mani Su cosce E culi A cui seguivano Schiaffi Ma non accadono Non succedono Quindi Tu senti la paura Non si può eliminare O l'imbarazzo Ti prendi fisicamente La mano E l'appoggi Sulla cosce Della ragazza E già questo È difficile Ovviamente Poi sarà Ancora più difficile Tenerla Perché appena La metti Anche se Non lo Cioè Già non lo volevi fare Poi la metti Appena la metti Il tuo Cervello fa Toglila 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 Che cazzo fai Toglila 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 Che cazzo fai Si pozzo Si pozzo E non lo fate Il vostro corpo Va in tilt Va in corto circuito Perché voi dite Toglila 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 E non lo fate Cioè il vostro cervello Fa Toglila Toglila E voi state Toglila 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 Alla fine Si scoccia Toglila Toglila E dice Porca putana Allora Cioè la puoi tenere Non è successo niente Non è successo niente E puoi tenerla lì E lei si sta anche arrapando Quando mettete una bella mano Su una coscia Vedrete le ragazze Andare in brodo di giugio Le vedete farle così Come se fossero ubriache Perché si stanno arrapando Il primo sintomo Della rapamento È che Vi sembrano ubriache Le ragazze del resto anche noi sembrava un po' ubriachi quando siamo arrapati Mark, hai avuto clienti donne? allora ho avuto molte richieste da clienti donne ma ho sempre rifiutato perché mi piace parlare delle cose che conosco bene non mi piace prendere in carico dei lavori su cui io so di non avere l'esperienza che vorrei avere nel senso che se io ti devo fare da coach io devo conoscere bene tutto quello che pensi tutto quello che hai passato e ovviamente almeno nella mia testa penso questo lo so meglio degli uomini io non posso sapere la donna cosa ha passato intimamente diciamo nella sua testa perché sono un uomo però sto ricevendo così tante richieste da donne ovviamente di meno di quelle degli uomini che un po' di pensierino ce lo sto facendo anche perché mi sta venendo in mente cosa potrei dire ad una donna per renderla più tranquilla più sicura di se stessa più scialla perché è sempre quello il problema ti rovini la vita solo perché non sei tranquillo e sciallo lo diventi buttandoti a fare le cose di cui hai paura non chiedendo come faccio eliminare la paura perché è proprio la paura la figata quando riesci a fare cose di cui hai paura e smetti di cercare di non averla la cresci come persona cresce la tua autostima e inevitabilmente sei più tranquillo e sciallo una persona tranquilla e sciallo è una persona che ha più autostima degli altri una persona senza autostima è una persona che si preoccupa sempre di qualsiasi cosa le persone che vi fanno sempre drammi sempre problemi sono persone con bassa autostima perché? perché hanno fatto abbastanza esperienze di buttarsi nonostante la paura e questo è il segreto dell'autostima alessandro rauco ciao stefano ciao cristiano infatti quando ho approcciato l'altra volta una tipa alla coppia alla fine gli ho detto lasciami facebook e lei mi fa perché? gli ho detto semplicemente perché sei carina non mi ha aggiunto ma proprio i suoi e vabbè io mi sentivo autentico è giusto è molto meglio non girarci intorno così ti scremi quelle che non vogliono il cazzo o almeno non vogliono il cazzo in quel momento invece di girarci intorno all'infinito e rimanere con l'idea che forse stai andando bene forse quella te la farà te la darà ragazzi bruciate i vostri numeri bruciate significa se avete numeri e ragazze da chiamare chiamatele bruciate i vostri contatti instagram facebook provateci provateci senza ritegno è molto meglio bruciare le situazioni che tenerle all'infinito perché tenerle all'infinito tu pensi di stare andando bene dici ah vabbè sto andando bene così perché rovinare ma in realtà stai andando male e allora male per male è la stessa cosa se bruci il numero di telefono e lei ti dice un chiaro e netto no che è solo da baciare quelle che vi dicono no chiaramente sono delle grandissime donne grazie per non averci girato intorno e per avermi fatto capire subito non ho perso tempo non ho perso energia grazie veramente ti amo e ti stimo viceversa quelle che voi tenete un po' diciamo in saccoccia perché forse sono in bilico non lo sapete se sono in bilico è un no allora no per no tanto vale saperlo subito non dopo cristiano mattia ciao samuela ciao marco io il problema che rifiuta se la bacio non ce l'ho praticamente mai nel senso che vado per il bacio quando capisco che lei vuole quello dici che sbaglio per l'occasione ci sta che se sbagli non lo posso sapere io cioè nel senso se tu percepisci che ci sta e poi ci sta ma ottimo tu intendi forse che credi di percepire e poi invece ti danno la guancia fammi capire qual è la domanda giuliano ciao leo ciao bux ciao ragazzi ciao alessandro mario sto in contatto con una milf stilosa bello me lo fa venire duro anche nel virtuale mo figo quando sono esplicito e le parlo del suo lato b sento che si bagna a distanza bellissimo queste sono le situazioni migliori bellissimo poi aggiornaci su sto fatto marchino cazzino come sempre ciao ciao a tutti quelli che sono entrati mattia ue marco è da un po' che ho sta mia amica e collega con cui ogni volta che usciamo in gruppo c'è tra noi fuoco ogni sguardo parola non mi ci fisso ma devo concludere che aspetti che aspetti cioè se senti il fuoco se senti l'atmosfera sessuale se ce l'hai duro è bagnata anche lei non sta aspettando altro quindi vai non non farti problemi di nessun tipo ciao tersi mattia mi è sorta una domanda quando tipo in discoteca ci sono le amiche scassa cazzo che fanno muro beh questa è la domanda eeeh si le cosiddette scassa cazzo che in america chiamano cock block o blocca cazzi eeeh si ci sono ragazzi mi è capitato mille volte di star per baciare letteralmente uno e farmela portare via da un maiale da guerra come le chiamo io che sono quelle che ovviamente sanno che non scoperanno durante la serata e quindi dicono se non scopo io non scopi neanche tu cioè io mi incazzerei questa è una cosa ad esempio che si dovrebbe insegnare alle donne cioè io ma ve lo immaginate un vostro amico maschio che voi state per baciare una e ve la porta via perché lui non scopa cioè è uno che tu manderesti a fanculo non il giorno dopo lo stesso istante cioè il tuo amico deve volere il bene per te eeeh allora invece siccome queste non scopano ti portano via la tipa ma sai quante volte è successo eeeh fa incazzare terribilmente eeeh c'è diciamo c'è poca c'è poco da fare per risolvere sto fatto c'è un problema proprio delle donne eeeh delle donne che non scopano che hanno risentimento da vendere e quindi vogliono rovinare la serata anche alle proprie amiche qualcuno dice che forse è meglio fare un po' di conversazione eeeh con anche le amiche di quella con cui volete andare però spesso tu non sai con chi vuoi andare cioè spesso magari ti fanno arrappare tutte che cazzo ne so quindi non è che stai a pensare ora cioè quello è molto metodo mystery molto metodo seduzione americana ora io mi devo stare a chiedere con chi devo andare con chi ho deciso quindi devo calcolare i 5-10 minuti in cui faccio amicizia con il maiale da guerra o la blocca cazzi perché forse così dopo non mi porterà via la tipa con cui io sto limonando è un po' un problema è un po' un problema al massimo quando ve la stanno portando via le potete dire vabbè o comunque scambiamoci il numero probabilmente ve lo danno se non sono preoccupate di fare brutta figura con il blocca cazzi il che può anche essere alcune sono così purtroppo hanno bassa autostima e quindi pensano a farsi dettare la vita dalle blocca cazzi che dobbiamo farci ragazzi meglio perdere che trovarle quelle ragazze ciao alex ciao mi sono perso qualcosa non succede nulla ah non so da cosa ti sta riferendo ciao skinny piergio leo verso fine diretta puoi rispondere alla domanda che ti feci qual è leo non me la ricordo mi mandate un casino di messaggi alex come tornare con una ex ah si 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 questa me l'avevi chiesto ieri se non sbaglio cioè l'altro ieri come tornare con una ex devi stare molto molto attento alex perché è veramente un territorio scivoloso nel senso che ti devi chiedere perché tornare con una ex cioè spesso al 99% è per ego nel senso che tu vuoi dimostrare a te stesso che te la puoi riprendere se è finita con la tua ex c'è un problema o numerosi problemi nel senso che non siete compatibili per svariati motivi quindi rifissarsi con la ex io non lo capisco ed è super scivoloso come materiale diciamo valgono gli stessi consigli delle altre situazioni cioè appunto aumentare la tensione sessuale farla bagnare cosa che peraltro dovrebbe essere facile con la tua ex visto che avete già scopato però diciamo al di là di quello che ti posso consigliare come seduzione della ex io come idea di ritornare sedurre la propria ex la vedo strana la vedo la vedo tra l'altro senza senso nel senso che se è finita evidentemente avevate dei problemi non eravate compatibili oppure lei non ti vedeva degno di lei e quindi io la manderei a fanculo tranquillamente cioè ce ne sono minchia ci sono miliardi di donne su questo pianeta più belle della tua ex scusa se ti dico questo più simpatiche della tua ex con cui vai più d'accordo della tua ex con cui sei più compatibile a livello di atteggiamenti comportamenti valori eccetera e tu devi per forza tornare con la tua ex no è una questione non di pene ma di testa di ego cioè io voglio dimostrare a me stesso che posso riavere la mia ex ma perché ma tu hai visto quanta cazzo di figa c'è in giro cioè primavera ma hai visto i culi che stanno in giro e tu devi tornare con la tua ex Mario saresti un coach perfetto per una donna e per qualunque essere umano di 12 e 90 anni grazie Mario ti amo anch'io oltremare ciao ragazzi io purtroppo sto per chiudere Samuel dici spesso di fottersene se ti danno la guancia però se credo che mi dà la guancia non ci provo nemmeno a abbracciarla non hai capito un cazzo allora tu devi dare per scontato che ti dà la guancia perché è scontato che ti dà la guancia almeno uno o due volte è assolutamente scontato non ha proprio senso pensare che possa mai succedere che una tipa non ti dà la guancia succede a volte che ti dà direttamente la lingua però al 90% 95 99 ti dà la guancia quindi lo devi dare non solo te lo devi aspettare ma proprio devi partire da quel presupposto tutto il personal coaching si basa nel far capire al studente in coaching che non è evitare i no e fare di tutto per avere il sì ma è saper gestire i no perché i no sono assolutamente inevitabili e i no sono la approcci e ti dà i monosillabi ci provi e ti dà la guancia la inviti ad uscire e ti dice che non può o non ti risponde la inviti a salire da te e ti dice che devi andare a casa i no non è che bisogna evitarli i no bisogna gestirli i no ci sono sempre i no al 100% li hai quindi non è evitare i no perché è impossibile è gestire i no tutto quello che faccio nel personal coaching è trapanarti la testa per farti capire sta cosa e poi dirti come gestire i no ovviamente Alex intendevo dire non succede nulla per la mano sulla coscia no esatto sì sì scusami non avevo capito io Alex grazie per il consiglio Marco più che altro ha un accenno di sclero si dovrebbe essere finita per questo eh sì sì allora se sclera mandala veramente affanculo ma ti rendi conto di quanta figa c'è in giro Leo una ragazza che viene dove lavoro prima non le parlavo poi ho cominciato a farlo ho aumentato la prossimità la guardavo negli occhi e sentivo i battiti accelerare che figata ragazzi che figata mi sto arrapando anch'io mi sentivo in tensione non rischio così di camuffare ciò che sento realmente nonostante resto calmo no cioè nel senso che tu senti la tensione in quel momento non stai camuffando granché cioè nel senso che comunque si percepisce tu credi magari di camuffarla ma comunque si sente si sente l'odore probabilmente c'hai anche uno sguardo specifico si capisce quello che stai provando se tu senti tensione la sta sentendo anche lei ed è quella la cosa fighissima perché se tu sei arrapato e senti la tensione sessuale la sente anche lei è bagnata anche lei quindi è sempre reciproco camuffare le cose è molto diverso camuffare è che io ti voglio scopare però ti dico che invece voglio uscire con te per fare shopping come dicevamo all'inizio della diretta che è la cosa peggiore e che vi porta in friendzone però se tu guarda ti avvicini la guardi negli occhi c'hai la faccia così a un centimetro dalla sua prossimità fisica la tocchi e che cazzo stai camuffando cioè lei ha capito benissimo quello che che ha in mente tranquillo leo va bene ragazzi bella diretta mi è piaciuta densa di contenuti io purtroppo devo chiudere e ci vediamo domani ciao